Sul balcone, adesso, siccome la Bonatoraia ha sempre un posto in prima fila e ogni suo desiderio è legge, a maggior ragione, un desiderio espresso da voi qua nel palaghiaccio e ci mancherebbe che noi dell'anno che verrà non esaudissimo, beccatevi anche il congiuntivo, uno dei primi esatti del 2015, non esaudissimo il vostro desiderio, vi è talmente piaciuto il balletto di Anna Carla Suarez e dei ragazzi del maestro Garofalo che, preparatevi, forziamo le vene varicose, saliamo in piedi di nuovo perché si preparano e si baila di nuovo con Bailando, schieratevi ragazzi, bellissimo, un bis come all'opera, quando si ricanta la romanza, mi piace moltissimo, quindi quando i ragazzi e le ragazze sono pronte, soprattutto Anna Carla, c'è Anna Carla? C'è? Si sta a dormire, è andata in albergo, ci sta? Ci sta? Signore, signore, è bellissimo, è la prima volta nella mia vita che mi capita di dirlo a grande richiesta, bailando Anna Carla Suarez e i ragazzi di Marco Garofalo! Enric Iglesias Enric Iglesias In Giazona Desema Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.